Un orto urbano a fermo per promuovere la salute e l'inclusione sociale tramite l'agricoltura. Il progetto si sviluppa con un finanziamento della Regione Marche di circa 5.500 euro e vede come protagonista l'orto urbano di Vicolo degli Orlandi, in pieno centro a fermo. Qui, oltre a pratiche di piccola orticoltura, partono da progetti sociali e relazionali, grazie alla sinergia di varie associazioni. Questo orto è piccolo, non può essere appunto per scopi di produzione, tuttavia è curato direttamente dai volontari e che vi realizzano attività di tipo didattico, quindi di educazione ambientale, alimentare, per scuole in effetti di ogni ordine e grado. Anziani, oltre a 65 anni, che si incontrano con il mondo dell'associazionismo e che nella produzione dell'orto individuano altre dimensioni che sono quella dell'arte, della socialità, della relazione. In questo mese, a maggio e a giugno, si svolgeranno vari laboratori che riguarderanno l'educazione alimentare, l'orticoltura e l'arte, coinvolgendo in particolare gli over 65. Accanto alla funzione relazionale c'è quella formativa e quella legata al benessere per promuovere la longevità di cui le marche sono capofila. Oltre ad essere un progetto, è anche un'occasione per valorizzare l'agricoltura sociale e l'intergenerazionalità tra gli ultra 65 anni e, perché no, anche con la fascia d'età più giovane. L'Ega Ambiente di Fermo è da sempre impegnata in progetti analoghi e altri ne partiranno nei prossimi mesi. L'orto, data la sua ideale posizione, favorisce inoltre l'incontro con la storia della città di Fermo. Abbiamo cercato di ricostruire uno spazio urbano accanto a queste stupende mura medievali, accanto a questo territorio, quindi recuperando la storia di Fermo e mettendola in visione a disposizione di tutta la cittadinanza che così può godere anche di queste bellezze architettoniche.